Ciao a tutti, buonasera. Splendida coreografia della curva God Bye. Zlatan con la sua sensibilità certamente avrà provato un'emozione forte. Rahim Díaz dentro, limite dell'aria, Messias, Messias, Giroud, Grunic, l'allargo giusto, Rafa, Rafa in area di rigore, però a piazzarla, la deviazione in angolo. Nina subito pericoloso, calcio d'angolo a nostro favore, dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. La palla, Junior, il tiro di Junior deviato, fuori di poco, calcio d'angolo per noi, occasione. Ancora Rahim Díaz a inseguire il pallone, colpito Rahim, colpito Rahim, colpito Rahim, colpito Rahim, colpito Rahim in area di rigore, guardala dice Rahim. Rigore, calcio di rigore. Gol! Olivier Giroud! Olivier Giroud! Olivier Giroud! Olivier Giroud! Olivier Giroud! Olivier Giroud! Rimessa con le mani Verona, Lazzovic. E la palla è in gol. Pareggiato il Verona, mi sembrava uscita. Gol di Faraoni. Davide. De Ketlare. Deviazione. Leao! Deviazione! Chiede la mani, chiede il mani Rafa. Chiede il mani Rafa. Netto. Rafa Leao, prova a ripartire Rafa. Ecco Rafa, 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 Rafa. Tiro. Gol! Rafa Leao! È partito da solo, è andato a segnare. Rafa Leao! Rafa Leao! A fil di palo alla destra di Montipò. 2-1 per noi, 2-1 per noi, 2-1 per noi. È andato da Ibra Rafa Leao. Donali, dentro ancora. Charles, 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 Charles. Fuori. Ah, come voleva il gol di Charles. Palla lunga, va al salto di testa. Theo per Rafa. Può scattare ancora Rafa. Rafa se ne va. Rafa se ne va. 3-2 Rafa. 3-2 Rafa. 3-2 Rafa. Se la lunga. Alexi. Alexi, Rafa. 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 Gol! Rafa. 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 3-1 ragazzi. 3-1. 3-1. Finisce la parita San Siro. Abbiamo vinto. Volevamo andare a 70. E 70 siamo arrivati. Ciao a tutti. Un abbraccio a tutti. Alla prossima stagione. Ciao a tutti. 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 Ciao a tutti.